Oggi c'è una buona notizia per FIMER perché ci sono tutte le condizioni concrete per agganciare la ripartenza. La ripartenza deve essere agganciata e l'azienda per noi rimane una sorvegliata speciale. Termina un'altra mattinata di confronto all'interno dello stabilimento FIMER, oggi non solo con le rappresentanze sindacali, ma anche con le istituzioni, la regione, il comune, che hanno potuto conoscere, anche se solo con un collegamento a distanza, l'investitore, quindi il rappresentante del fondo Greibull McLaren. Sicuramente loro hanno posto l'attenzione sulle competenze, anche sulla resilienza dei lavoratori che sono rimasti qui nonostante tutto. Sicuramente l'orizzonte è crescere. Il fondo porterà intanto denaro fresco in azienda, ossigeno puro per la produzione e per evitare il fallimento, scongiurato definitivamente dopo il sì del Tribunale alla prosecuzione del concordato in continuità. L'obiettivo principale ed innegabile di noi come organizzazioni sindacali e l'obiettivo che ci diamo con questi incontri settimanali non è al di là di come verranno spesi questi soldi, ma anche che non ci siano ulteriori colpi di scena o frizioni che nell'ultimo mese hanno davvero messo in discussione la tenuta dell'azienda di 280 lavoratori, più v-mercate e più l'indotto. Ma le tappe per arrivare alla parola fine ancora non sono terminate. Bisogna arrivare ad ottobre quando ci sarà l'adunanza dei creditori. Una frase che ha detto il management di McLaren e che condivido pienamente. Ci sono due eroi in questa vicenda, da un lato i lavoratori per la loro resilienza, dall'altro i fornitori che nonostante le difficoltà hanno continuato ad approvvigionare e sostenere questa realtà aziendale. Nel mezzo ogni tempesta, ogni burrasca a questo punto potrebbe essere fatale. Che non ci siano colpi di scena, ulteriori colpi di scena da chi in questi ultimi giorni ci ha costantemente rappresentato, evidenziato che la realtà supera di gran lunga la fantasia. Ecco, noi di questo non abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di mettersi tutti insieme a lavorare e a cominciare a tracciare la strada che porta questa azienda, il gruppo intero fuori dalla procedura concordataria. Tra due settimane un nuovo incontro dove il Fondo presenterà il piano industriale. Grazie.